20 secondi al termine, Vincitroma che vince nettamente anche, forse meno nel gioco che nel gioco, ma nettamente contro il premio da Montelganaro, non arriva il canetto del giro che è male, e allora si chiude qua, la Vincitroma batte la seconda della classifica, Vincitroma, 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 Vincitroma. E siamo di nuovo la, numero che va a essere Vincitroma.